Si stima ci sarà un nuovo caro negli incassi delle multe combinate sul territorio del comprensorio nel 2016. I proventi delle sanzioni ammontano a 400.114 euro, cifra inferiore a quella del 2015 quando erano stati raccolti 415.274 euro, quando peraltro le sanzioni erano più basse. In realtà, per quel che riguarda l'utente stradale, il salasse è stato leggermente pronunciato, anche se in questi casi le cifre vanno accuratamente analizzate. Nel valutare la riduzione degli incassi è doveroso tenere presente il fatto che a partire dalla fine di agosto 2013 è stata introdotta la riduzione del 30% dell'importo nelle sanzioni per chi paga la multa entro 5 giorni. Il comune da cui sono derivati i maggiori proventi è, come sempre, quello di Riva, che ha incamerato 150.000 euro, circa 30.000 e meno rispetto all'anno scorso, seguito poi dal comune di Arco, le cui entrate sono aumentate dell'1% circa ed ammontano a 110.913 euro. Nago Torbole, dove gli incassi che ammontano a 85.319 euro, sono stati i maggiori rispetto al 2015. DRO, che ha registrato lieve calo avendo ottenuto poco più di 32.000 euro. L'EDRO, dove è stata rilevata una sostanziale stabilità. TENNO, che ha ottenuto dei proventi maggiori. E DRENA, fanalina di coda, i cui proventi da scarsi che erano sono passati allo zero assoluto. L'EDRO, dove è stata rilevata una sostanziale stabilità. L'EDRO, dove è stata rilevata una sostanziale stabilità.